Saro! 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 Marisa, le fece bene a sti... ci sono novità? Emotion! Tutto. Saro, che novità ci stanno? Marisa, ti devo ringraziare. Che ha già fatto? Che fosse lo suo padre l'assassino di Vito. È vero? Sì, perché lo devono riaprire al caso. Saro, ma questa è una notizia troppo bella. Se non c'eri tu che mi consiglia, vedi continuare l'indaggibile da solo. A Stura. Ma sarei stoppata di dosso, sta di risa. Marisa, ma che fai? Piangi? No! Aspetta, che ti prendo il fatto? Beh, non trovi i fazzoletti. Non devi piangere. Questa è una notizia bella. Bella cosa come te. Ciao a tutti amici. Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua. pronto per stare in vostra compagnia. Ricorda, metti un like. Iscriviti al canale Tano TV. Attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono. Bentrovati amici miei. Allora, siamo ancora qui. dobbiamo scoprire le ultime novità dei nostri zengabolli. a presto. Qu' trovare i e B sentimenti? Chi копla O a presto. Unos douche? Unos douche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.